Quando un malato si pensa, ma chiamiamo al prete, al sacerdote, perché venga no, no, poi porta malafortuna, poi no, non lo chiamiamo, o poi si spaventerà l'ammalato. Perché? Perché c'è un po' l'idea che quando c'è un ammalato e viene il sacerdote, dopo di lui arriva la pompa funebre. E quello non è vero. Il sacerdote viene per aiutare al malato o all'anziano. Per questo è tanto importante la visita dei sacerdoti ai malati. Chiamarlo a un malato, venga, le dia l'unzione, lo benedica. Perché è Gesù che arriva per sollevarlo, per darle forza, per darle speranza, per aiutarlo, anche per perdonargli i peccati. E questo è bellissimo.